Ben trovati anche alla pagina sportiva del TG Noi, in primo piano ovviamente la prima giornata di gara del Rally del Ciocco che non ha risparmiato spettacoli e colpi di scena. Ci colleghiamo in diretta con Guido Casotti proprio dal Ciocco per sapere come è andata fino ad ora. Guardano il minuto di penalizzazione al CO6 anticipo sull'ingresso di Scandola che così compromette la prima tappa e il ritiro del sedicenne Calle Rovampera che tocca su Renaio e perde sul Ciocco 2 la ruota posteriore sinistra. Lo rivedremo domenica grazie al Super Rally. La sessione pomeridiana scatta con 30 minuti di ritardo, caso incidente per fortuna senza gravi conseguenze o corsa ad un equipaggio del campionato regionale. Andreucci prova a forzare prima su Gragnanella e poi su San Rocco riesce a scavare un piccolo solsco che può essere decisivo. Per il terzo posto Perico sembra in grado di respingere gli assalti dei vari in Ucita, Michelini e Scandola. Le ultime tre prove speciali si corrono di notte, Ucci incrementa e controlla da campione. Perico blinda il terzo posto, lotta seratissima per la quarta piazza, la spunta Scandola su Michelini a seguire gli altri. Domenica la seconda tappa con quattro prove speciali, Careggine e Coreglia da ripetere due volte, prima dell'arrivo a Castelnuovo Garfagnana nella Rocca Reostesca che vi proporremo rigorosamente in diretta. Passiamo al calcio, parliamo della Lucchese che ha vinto al Porta Elisa nel turno di campionato battendo 1-0 il Pro Piacenza. Dopo un periodo negativo, la Lucchese torna meritatamente alla vittoria al Porta Elisa nella gara contro il Pro Piacenza. Dopo una prima fase di studio, i rossoneri sbloccano la partita al 24esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, conclusione di De Feo e intervento risolutivo di Fanucchi che mette in rete. C'è una reazione degli ospiti, ma Di Masi chiude lo specchio della porta. Poi, prima dell'intervallo, è di nuovo la Lucchese a farsi pericolosa, legittimando il vantaggio con due tentativi di De Feo e Cecchini. Nonostante qualche offensiva degli ospiti, anche nella ripresa è la Lucchese a tenere l'iniziativa. I rossoneri si rendono pericolosi più volte e alla mezz'ora i ragazzi di Galderisi avrebbero la palla per chiudere l'incontro. Traversone teso di Bruccini in aria e Tavanti conclude a colpo sicuro, ma colpisce la traversa. Nel finale, i rossoneri si ritrovano in dieci a causa dell'espulsione di Capuano per proteste, ma ormai è fatta. La Lucchese si prende tre punti fondamentali per allontanarsi dalle zone più pericolose della classifica. Ancora il calcio con i risultati della terza categoria. Partiamo dal girone A. Sporting Forte dei Marmi, Atletico Marginone 3 a 0, San Vitesse Bargecchia 1 a 4, Piano di Conca e Speria Viareggio 1 a 1, San Macario Forte dei Marmi 2 a 3, Massa Macinaia Spianate 2 a 0, Porcari Sporting Viareggio 3 a 0, Don Bosco Unione Quiesa 1 a 4, in classifica in testa l'Atletico Forte dei Marmi con 64 punti, poi Bargecchia 55, Unione Quiesa 49, Sporting Forte dei Marmi 45, Porcari 41, Sporting Viareggio 36, Piano di Conca 30, Poi Don Bosco 24 punti, Massa Macinaia 22, San Vitesse 21, Esperia Viareggio 19, Marginone 16 punti, chiudono San Macario e Spianate rispettivamente con 9 e 7 punti. Il Girone B, Sacro Cuore Castelvecchio di compito 1 a 2, Segromigno Fornaci 5 a 1, San Lorenzo Montuolo Nave 2 a 2, Virtus Piazza Alcerchio Sant'Anna 4 a 0, Filecchio Silli Cagnana 4 a 0, Morianese Vagli 1 a 1, Coreglia Virtus Robur 3 a 0. Classifica in testa Virtus Piazza Alcerchio con 55 punti, poi Castelvecchio di compito 44, Segromigno 40, Morianese Montuolo 38, Coreglia 34, Vagli e Filecchio 33 punti, Sacro Cuore 31, Silli Cagnana 29, Fornaci 17, San Lorenzo 14, chiudono Virtus Robur con 8 punti e Sant'Anna con 7 punti. Una notizia di basket, Lemura Lucca affronta domani al pala tagliata alle ore 18, la pallacanestro Umbertide all'inizio di una settimana decisiva che stabilirà le posizioni nella griglia play-off, play-off che ormai sono sicuri per la squadra lucchese. Un'altra notizia di basket, Andrea Del Debbio convocato con la nazionale maschile Under 18, il giocatore del centro mini basket Lucca, protagonista con la Geo Nova nel campionato di Cigold e con la Lombardi Lucca nella fase interregionale Under 18, è stato inserito nella lista dei giocatori a disposizione per il raduno in programma a Tirrenia dal 27 al 29 marzo. È tutto anche per quanto riguarda lo sport, adesso di nuovo la pubblicità, poi la terza e ultima parte del TG Noi.